A piante contro zombie ho deciso di farvi vedere tutte queste modalità per farvele imparare a memoria una volta terminato la modalità avventura. Cominciamo dalla prima, abbiamo i rompicapi. I rompicapi si dividono sempre in due categorie come spaccare vasi col martello e aiutare gli zombie. Ce ne sono 18 e voi dovete completarli tutti. Poi quest'altra modalità che vi facciamo vedere è sopravvivenza. Ce ne sono 10 e vanno completate. C'è da sopravvivere di giorno, di notte, in piscina, quando c'è la nebbia e sul tetto. 5 sono facili, mentre le altre 5 sono le più difficili. Poi passiamo ai minigiochi. Ora vi facciamo conoscere tutti i minigiochi di piante contro zombie. Ce ne sono 20. Abbiamo zombie vegetali, bullying alle noci, slot machine, arma pesante, bag o led, zombie invisibili. Guardando le stelle, acquario zombie, bag o led twist, zombie piccoli, guai grossi, zombie teletrasporto, su tutta la linea, bobisti alla riscossa, zombie a tutta birra, picchialo zombie, resistenza estrema, zombie vegetali 2, bullying alle noci 2, 4 salti in allegria e la vendetta di zombotron. Bene, ora passiamo alle altre modalità, ma questa volta si fa a 2, se avete un amico con voi e ci giocate in compagnia. Tanto ce ne sono 10 e vanno completati. Bisogna fare la sfida a 2. Si fa a diurna, notturna, in piscina, sul tetto, bullying e basta. Mentre le altre sono difficili. E per finire c'è da fare a 2 la sfida di zombotron e va affrontato ancora una volta questo zombotron. Ok, io ho finito.